Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, brevemente l'estrazione dei vincitori del giveaway, ovviamente eliminerò quel video perché ormai il concorso è chiuso. Prossimi clip per i vincitori che contatterò direttamente, se non vi ho contattato prego di contattarmi via mail, direct su Instagram o su Telegram. Grazie mille e via con l'estrazione! Il primo premio è vinto da Giampiero Rossi E il secondo premio è stato vinto da Giovanni De Filippo Un altro vincitore A sto giro il terzo premio va a Tekken Grazie mille e via con l'estrazione! Grazie mille e via con l'estrazione!